Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Deals of the Week, la rubrica degli sconti e delle offerte sui prodotti Apple e sugli accessori per i prodotti Apple Prima di partire, mandiamo la sigla, una piccola precisazione e poi vediamo le offerte Allora ragazzi, appunto la piccola precisazione è solo questa Mi avete suggerito, dopo avermi suggerito di dire prodotto per prodotto, spedizione gratuita, per ordini fino a 29, eccetera Per ordini superiori ai 29, eccetera, mi avete detto l'esatto contrario, ora mi avete detto non lo dire più, dillo solo all'inizio e alla fine Ok, in pratica farò questo da questa puntata, non dirò più prodotto per prodotto che la spedizione è gratuita per ordini superiori fino a 29€ se così è Ovviamente se c'è una spedizione gratuita a prescindere in quel caso lo dirò, ma siccome la regola generale ormai su Amazon è che la spedizione è gratuita per ordini superiori ai 29€ Lo dirò solo all'inizio e alla fine della puntata, così come solo all'inizio e alla fine della puntata dirò che i link di tutti questi prodotti sono in descrizione Che le offerte sono limitate nel tempo e nelle unità e che quindi se volete beneficiare dell'offerta che vi riporto dovete acquistare quanto prima i prodotti Perché altrimenti poi il prezzo può salire o l'offerta può terminare, quindi i prodotti possono poi non essere più disponibili Quindi l'ho detto all'inizio, ora possiamo iniziare con le offerte Allora ragazzi partiamo con la prima offerta che riguarda questo cavetto Lightning USB di Oki È un cavetto incrociato, quindi di quelli che non si arrotolano, che non si rompono Da un metro e due in nylon che funziona ovviamente con tutti i dispositivi Apple che utilizzano lo standard Lightning, è disponibile in argento, oro e nero Quindi colori che cercano di combaciare con quelli dell'iPhone, manca l'ororosa Però il prezzo passa da 18,99€ a 8,99€ Con uno sconto del 53% In sconto c'è un nuovo smartphone di Yuntab che in realtà poi resta molto simile a quelli che abbiamo già visto in passato In realtà non sono sicuro che sia lo stesso o che sia un altro Perché poi sono molto simili tra di loro Perché sono smartwatch oggettivamente ispirati, diciamo così, all'Apple Watch La differenza è che questo smartwatch funziona sia con iOS che con Android È appunto lo Yuntab K9, Bluetooth 3.0 La connessione può essere usato anche in lingua italiana Ha un display HD con alta sensibilità al touch Sinceramente mi sembra tutt'altro che HD E poi la sensibilità al touch è da vedere Anche l'Apple Watch va bene ma non benissimo Quindi non so se questo smartwatch possa andare chissà quanto bene Soprattutto considerato il prezzo che è veramente di quelli che forse per chi non ha mai provato uno smartwatch Può essere un attimo intrigante Perché costava 69,99€ il prodotto Ma con uno sconto del 64% che fa risparmiare quindi la maggior parte del valore del prodotto Quando lo si acquista Si scende a soli 24,99€ Insomma 25€ per uno smartwatch Credo che se siete interessati all'idea dello smartwatch si possano spendere Anche solo per valutare il prodotto Questo poi è molto simile all'Apple Watch Appunto agli stessi pulsanti È praticamente un Apple Watch cinese Diciamocelo proprio chiaro e tondo Anche la grafica ricorda quello dell'Apple Watch Se volete capire se uno smartwatch fa per voi o meno Considerato che comunque l'idea che vi fate Ve la fate su un prodotto da 25€ Quindi è chiaro che un Apple Watch da 300€ è un'altra cosa Però potrebbe semplicemente dirvi Se uno smartwatch per voi al polso Può essere utile o meno In sconto troviamo una custodia per iPhone SE di Spigen Un'altra custodia per iPhone SE di Spigen Che sta spingendo molto appunto sull'iPhone SE O sta riciclando semplicemente le custodie per 5S e per 5 Perché infatti questa custodia va bene anche per quegli iPhone Utilizza una tecnologia di assorbimento aria-cuscino Per proteggere il telefono È una custodia che fa sia da bumper sia da cover Per il retro è un po' spessa Quindi è una custodia che inspessirà il telefono parecchio Però lo proteggerà anche molto bene Il prezzo passa da 16,99€ a soli 6,99€ Batteria portatile in sconto anche questa settimana Questa volta è di iCozier Si chiama proprio così l'azienda È da 10.000 mAh Doppio USB portatile LED di notifica per farci vedere Per segnalarci insomma l'autonomia residuo della batteria È in grado anche di caricare appunto Smartphone e tablet di ogni genere Disponibile in nero o in bianco Ha anche una torcia Un flash che appunto si può usare quindi Come torcia il prezzo è abbastanza buono Perché si scende dai 39,99€ di listino Con uno sconto del 58% Si arriva a 16,99€ Da Inatec troviamo uno sconto su una bustina impermeabile per iPhone Ormai siamo vicini all'estate Fa molto caldo, fa molto freddo Dipende, qui oggi fa molto caldo Ma due giorni fa ha grandinato Vi dico solo questo Però ho già visto gente al mare E se pensate di andare al mare Questa bustina vi consentirà in pratica Di impermeabilizzare il vostro iPhone E di usarlo anche sott'acqua Il prezzo è molto ridotto Perché lo sconto è molto buono Uno sconto del 77% Che fa passare il prezzo da 29,99€ di listino A soli 6,99€ come prezzo attuale In sconto troviamo anche le ottime cuffie Sennheiser RS110 Sono cuffie wireless Pensate soprattutto per l'ascolto Diciamo in comodità Ecco, per ascoltare audio Dei film o musica tramite il tv L'i-fi o qualsiasi altro luogo della casa Appunto che supporti questa tecnologia È una cuffia quindi da casa Non tanto per lo smartphone La qualità è molto molto alta Come per tutti i prodotti Sennheiser Il prezzo è di 110€ No, il prezzo era di 110€ Ora con uno sconto del 56% Si scende a 47,99€ Se state cercando invece delle cuffiette sportive A prezzo comunque ridotto Ci sono in sconto le Tech ELEC Marca di cui sinceramente non ho mai sentito parlare Le SPX Che sono sweet proof Quindi a prova di sudore Sport running Palestra come indicazione Per quanto riguarda appunto l'utilizzo Con 7 ore di autonomia Per la batteria Il prezzo passa da 69,99€ Ora c'è uno sconto del 57% Che porta il prezzo a soli 29,99€ Se avete un Apple Watch E cercate un dock Per ricaricarlo in modo molto semplice E carino Allora c'è un Apple Watch Certificato made for Apple Watch Di Simpeak Veramente molto carino In più ha anche tre porte USB Aggiuntive per ricaricare ad esempio Altri prodotti Collegandoli al dock Quindi può fungere anche Da alimentatore Se collegato ovviamente lui Alla corrente Si tratta appunto Di un prodotto Che di listino Costava 69,58€ Disponibile nelle versioni Bianca e nera E ora con uno sconto del 64% È disponibile a soli 24,98€ In sconto c'è un prodotto di Jabra Non sono le Jabra Revo Ma è il Jabra Storm È un auricolare wireless Veramente carino Purtroppo non l'ho ancora potuto provare Ma lo voglio provare Veramente tanto Perché è carino Funzionale E i prodotti Jabra Per me hanno un posto particolare Nel mio cuore Supporta l'NFC Per l'abbinamento rapido Con i dispositivi Che lo supportano Fino a 10 ore Di autonomia In conversazione Insomma Tecnologia anche Per cancellare l'audio Superfluo Per cancellare i rumori E il prezzo O meglio lo sconto Fa arrivare il prezzo Ad una cifra Veramente molto interessante Si passa dai 70€ Di listino 69,99€ A soli 32,99€ Centesimi E arriviamo infine All'ultima offerta di questa settimana In deals of the week Che riguarda L'Anker Bluetooth Speaker Soundcore È uno speaker veramente molto grande Disponibile in nero e in rosso È uno dei dispositivi del genere Più acquistati su Amazon Che offre ottimi bassi Una doppia cassa Per un audio di alta qualità E una durata in autonomia Insomma di riproduzione Di 24 ore Il prezzo è alto E resta alto Ma lo sconto Fa risparmiare 33€ Si passa da 79,99€ A 46,99€ Bene ragazzi Quindi queste erano le offerte Per questa settimana Vi ripeto Tutti i prodotti Sono con spedizione gratuita Se valgono più di 29€ Invece sono con spedizione a pagamento Se valgono meno di 29€ Se volete ovviamente Ottenere la spedizione gratuita Combinate due o più prodotti Per raggiungere almeno i 30€ E in questo modo appunto Non pagate le spedizioni Vi risparmiate quei 4, 5, 6€ Ulteriori Oltre allo sconto Che vi ho riportato io Tutti i link Sono in descrizione Per tutti questi prodotti Nell'ordine in cui Ve li ho presentati Non perdete tempo Se siete interessati Ad acquistarne uno Perché le offerte sono limitate Nel tempo e nelle unità Fatemi sapere nei commenti Qual è secondo voi Il prodotto più interessante in sconto Ed eventualmente Quale avete acquistato E noi ci risentiamo Al prossimo video Ciao a tutti Da Andrea Cervone